Il Comune di Ponte Cagnano-Faiano ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro dalla Regione Campania per l'intervento di ristrutturazione e efficientamento energetico dell'ex asilo Maria Pia di Savoia. Tale cifra consentirà un importante passo avanti nell'ambito dell'adeguamento degli spazi che attualmente sono occupati da diversi uffici, un'opportunità per ottimizzare il lavoro dei dipendenti e rendere più sicuro l'accesso degli utenti. Riparti il lavoro incessante per riferire i pondi, un risultato frutto della sinergia tra uffici comunali e regionali ed il sempre attento e valido supporto del consigliere regionale Luca Cascone, uomo delle istituzioni sempre sensibili alle stanze del nostro territorio, ha dichiarato l'assessore al ramo Raffaele Sica. Grazie a tutti.